Mentre si aspetta di sapere a che punto sia l'iter per il riconoscimento dell'IGP a cioccolato di Modica, nasce il Comitato Cioccolatieri Modica al fine proprio di promuovere e valorizzare il cioccolato modicano, la sua produzione, la sua posizione sul mercato e il legrame fra questo prodotto con la città di Modica. Il Comitato, costituito da maestri cioccolatieri modicani, si propone per seguire le osservazioni fatte sul disciplinare del cioccolato di Modica, presentato dal Consorzio di Tutela in previsione dell'audizione ministeriale, al fine di renderlo, se un semplice disciplinare sarà consentito, uno strumento il più condiviso, il più utile possibile alla protezione del prodotto. Come spiega Pierpaolo Ruta, membro del Comitato. È un gruppo che vuole essere inclusivo e non esclusivo, ma che nasce, si palesa, per evitare che degli attori importanti nel panorama della produzione del cioccolato vengano esclusi come è avvenuto in passato. dai tavoli istituzionali che riguardano il prodotto. Importante per noi, come detto anche nel comunicato, è arrivare ad obiettivi importanti, vedi ad esempio l'IGP, attraverso dei percorsi condivisi. Secondo tutti noi, inoltre, è il momento di crescere e quindi di uscire dalle dinamiche solamente locali e di iniziare ad attenzionare tracciabilità, provenienze, conoscenze legate alle materie prime, aspetti etici legati al cacao, che troppo spesso nelle polemiche interne si sono persi. Il Comitato si prefigge poi una serie di obiettivi, tra cui l'inalzamento delle competenze, delle conoscenze rispetto al cacao e al cioccolato da parte degli operatori modicani e in altro modo, ma in parallelo, del territorio tutto e dei visitatori, promuovendo una concertazione e coordinamento di iniziative sul territorio in modo da avere un museo che offra, con uno stile adeguato, contenuti reali e che lasci un ricordo positivo ai visitatori, secondo quanto riportato dal neocomitato con i suoi rappresentanti. Infine, il Comitato ribadisce la necessità di essere coinvolti al massimo livello in ogni decisione e iniziativa relativa al cioccolato di Modica. Grazie a tutti.